Grazie per questa iniziativa Non si è mai visto al mondo che per essere ospitati dovevamo scrivere una lettera Tipo a Babbo Natale L'abbiamo scritta Ci hanno risposto che erano prima interessati E poi dopo poco ci hanno risposto di no Porta a porta ci hanno risposto che prima erano interessati E poi ci hanno detto che erano molto impegnati con l'Isis e le guerre Che si sarebbero dedicati solo a quello Avevano deciso Sui giornali quando è uscito il film non è uscito nulla E quel pochissimo che è uscito Parliamo di trafiletti, di critici assolutamente ovviamente incompetenti sulla materia È stato relegato alle pagine degli spettacoli Cioè si è fatto finta di nulla Nonostante il film sia uscito in un momento in cui il tema della trattativa Era in prima pagina tutti i giorni Paradossalmente il fatto che Napolitano dovesse testimoniare Ha seminato il terrore nei nostri media Che sono già così naturalmente terrorizzati per conto loro Ma l'idea che appunto ci fosse questo risvolto di un possibile coinvolgimento di Napolitano Che tra l'altro nel film è coinvolto pochissimo Nel senso che io ho fatto Mi sono riproposta di fare un film rigorosissimo In cui si dice soltanto quello che si può dire Senza cedere a nessuna tentazione polemica Non ho menzionato nemmeno il fatto che Napolitano Ha fatto distruggere le intercettazioni Perché avrebbe voluto significare Insinuare che in quelle intercettazioni c'era qualcosa da distruggere Quando è la stessa procura di Palermo Che ci dice che non c'era niente di importante Quindi perché fare una polemica è inutile Io sono stata onestissima E ho confidato Non ingenuamente Ma perché non posso Credo che non ci sia altra strategia possibile Che quella di fingere Che siamo ancora in una democrazia E comportarci di conseguenza Di fingere che ci sia un dialogo possibile Che i nostri Che i direttori dei principali giornali Che i giornalisti Che all'opinione pubblica Debba interessare un tema del genere Perché quando si parla di trattativa Ci vogliono sempre far credere Che si tratti Che l'argomento sia Il fatto che lo Stato a un certo punto Avrebbe fatto alcune concessioni alla mafia In cambio della cessazione delle stragi Infatti poi citano Moro Citano altri casi analoghi Quando invece il tema È assai più grave Si tratta del fatto Che in un momento in cui questo paese Stava finalmente crescendo E c'era finalmente la possibilità Di liberarsi dalla mafia e dalla corruzione La nostra classe dirigente Si è servita Della violenza e delle stragi Per conservare il potere Per conservare i loro interessi economici E in qualche caso anche per conservare La loro vita Di questo si parla Quando si parla di trattativa E si parla del fatto Che la nostra classe dirigente attuale È figlia di quel patto scelerato E lo vediamo dal fatto che Fino alla trattativa Avevamo più di uno schieramento politico Gli schieramenti politici Perseguivano obiettivi diversi Mentre dopo la trattativa E quel patto Che i fatti ci dimostrano Che c'è stato I due supposti Opposti schieramenti Hanno invece perseguito Lo stesso identico progetto politico Ovvero quello Di indebolire la democrazia Indebolire il Parlamento Indebolire il voto Con delle leggi elettorali Truffa Indebolire la giustizia Indebolire l'istruzione pubblica Indebolire tutti i fondamenti Della democrazia Per ridurre questo paese Come è ridotto oggi Ossia Un paese che non è tanto La questione del collasso economico Che poi non si capisce nemmeno Se c'è o non c'è Ogni tanto sul sole 24 ore Scrivono che tutto sommato Il debito pubblico italiano Non è neanche così male Che la Germania sta messa peggio La Francia sta messa peggio Ma è La crisi morale Il fenomeno più eclatante Ho fatto richiesta al ministero Degli interessi culturali Come si chiama Beni Non solo mi hanno dato i soldi Non solo ho dovuto sostenere il colloquio Anche davanti alla moglie di Antonio Dalì Che era stato assolto Mezzo prescritto E mezzo assolto Una settimana prima Per gravissime questioni Comunque inerenti Alla mafia Non solo non ci hanno dato i soldi Ma nemmeno l'interesse culturale Che invece hanno dato A dei film di Natale Impedendoci anche di avere Delle piccole egevolazioni fiscali Quindi è stato Fare questo film È stata una fatica immensa È stato fatto col sacrificio Di tantissime persone Tutte persone che hanno lavorato No no grazie È stata anche una gioia Assolutamente è stato Cioè È un film che rifarei Oggi pomeriggio Finito il dibattito Però voglio dire È stato Diciamo Un film sacrificato Anche questo Alla ragione di Stato Ed è stato impedito Agli italiani di vederlo Fondamentalmente Perciò Immediatamente Si sono attivati Alcuni cittadini Adesso stiamo Stiamo facendo Ci sono tante persone Che se lo distribuiscono Da sole Che organizzano Delle proiezioni Stiamo organizzando Delle proiezioni Delle scuole Se scrivete Su Facebook Sul blog Eccetera Cercheremo di distribuirlo Comunque per fortuna Appunto Un film È l'unico vantaggio Del cinema Insomma Che è una cosa Che resta là Per sempre E quindi Non c'è modo Di distruggere Corna facendo Non vorrei suggerire Esatto Io ho dei DVD Celo Insomma In casa Delle copie Celo E quindi Voglio dire Continueremo A distribuirlo In questo modo E sono sicura Che Io credo Che nel momento In cui Questo film Potrà essere Visto E digerito E discusso Serenamente Potremmo dire Che questo paese È finalmente cambiato Quindi Se non altro Potrà essere utilizzato Come cartina di tornasole Per vedere Se ce la facciamo A cambiare o no E se ce la facciamo Soprattutto A uscire Da questa idea Che non ci sia speranza Perché io tutte le volte Che incontro Gli spettatori È peggio Quando Peggio Quando incontro I ragazzi Di 17 18 anni Peggio La loro reazione È quella Di dire Non tanto Non possiamo fare niente Tanto Non c'è nessuna speranza Tanto le cose Non possono cambiare Con dei professori Bastardi Che confermano E dicono No Non potete cambiare Non potete fare niente È proprio così Come hanno fatto A convincerci di questo Questo è Il punto E anche il motivo Per cui appunto Abbiamo tutti Una Informazione Diciamo Tante informazioni Paura Terrore Paura di perdere il posto Abbiamo perso tutti i diritti Sappiamo che se uno apre bocca Ti fanno fuori E sappiamo che è anche difficile Avere Avere solidarietà Per questo appunto Ringrazio il Movimento 5 Stelle Anche perché rappresenta Indubbiamente L'unica Occasione di speranza In questo momento In Parlamento Per le battaglie Per aver difeso La legge sul voto di scambio Per esempio Cioè che dubbi Dobbiamo avere Su una classe dirigente Che cerca Di Di Rendere le pene Sul voto di scambio Più basse possibili Tra l'altro Uno di quelli Che ha proposto Con l'inganno Una variazione Subdola Questa legge Lo stesso Mattiello Che ha proposto L'interrogazione parlamentare Sulla locandina Del mio film Sostenendo che era Offensiva E ha sostenuto anche Che Don Ciotti Era d'accordo Con la sua proposta Facendo naturalmente Arrabbiare Molto Don Ciotti E quindi Insomma Sono contenta Di essere qua E cerchiamo Di cambiare Ma la dobbiamo cambiare Assolutamente Non possiamo regalare L'Italia a questi È proprio escluso Per quanto Ho visto Adesso c'è anche Uno spot Della Rai Uno spot Della Rai Che invita i giovani Ad andare all'estero Perché ci sono Tante opportunità Ma noi Non glielo lasciamo Questo paese Sarebbe troppo Sarebbe troppo facile E non c'è la fuga Dei cervelli E non è che Quell'intelligente Sono andati via E quelli scimi Sono rimasti qua Perché il cervello Ce l'hanno tutti Gli esseri umani Indistintamente E funziona benissimo E le variazioni Sono minuscole E ognuno Ha il suo talento E non esistono Persone stupide Esistono solo persone Che si fanno spaventare E riescono A perdere fiducia Nella loro intelligenza E nella loro dignità Basta Voilà Grazie a tutti 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 Grazie a tutti